Ciao ragazzi e bentornati con un'altra patata dei catcher in Allora, qua stranamente è un mortorio, incredibile, ma vero, per cui vediamo un attimo se c'è qualcuno con cui parlare Johnny? Johnny? Johnny niente, boss, nada Vediamo un attimo, allora qua c'era il maniaco quello che... Rompere il cazzo alle donne praticamente Parla con Erika Wow, una pianista misteriosa Sognare è gratuito Ditemi la verità ragazzi, Rin Scrivetelo nei commenti, vi ispira, vi piace, ci sta bene nel gioco secondo voi Fatemelo sapere, sono molto molto curioso, io ho già un'idea, però voglio sentire la vostra prima Ok Ancora? Ancora viola? Eh beh Che ruffiano di uomo ragazzi Dai Vincent, dai, secondo me Dobbiamo andare via Non c'è più nessuno con cui parlare Wow, ti stavo andando Eh Non ho mica capito, uno sta per andare a casa E una persona vi dice Forse è meglio se vai a casa Davvero, mi hai detto nel pensiero Guarda Non l'avrei mai fatto se non me l'avessi detto Stanza di Vincent Mezzanotte e nove Una notte insonne Eh già Beato fra le donne O fra le pecore Oppure dannato fra le donne O dannato fra le pecore Dannato fra le pecore direi Eccole qua Per l'appunto Questa notte visitiamo il quadrable Cos'è che ha detto, cacchio? E qua mancano i sub Quadrangle Ah Campus, primo piano Quadrangle Buono Ok Blocchi di ghiaccio ragazzi Beh effettivamente i mutande così Aha Ho capito It's cold It's cold Eeeh E fin qua ragazzi Ci siamo eh Ah wow wow Cioè ma veramente Cazzarola Interessante come cosa Non ci avrei mai pensato onestamente Capitato per puro caso No No Eh Qua è poi easy Anche qua Fin qua Forse sempre così ragazzi Ah beh Allora Non ci ferma lo Per asciughe il ghiaccio Ho capito No problema For me Più o meno Oh porca Help Help Eh Eh Vedete che questo qua è un bel dilemma No in realtà no Ecco si fa così Noo sfighi Eccolo qua Bisogna usare la cocuzza ragazzi Io in realtà sto facendo molto a caso Bene Un altro livello è andato E' andato discretamente direi Più o meno dai Safety bonus Oh mamma mia Che pecorone muscoloso cacchio Che è il Thor delle pecore Quello lì ha anche il martello Si io Oh cazzo è morto qualcuno allora Eh mi dispiace Quanto pare se Facciamo le corna Marin Non portare sfiga Pecora Io dovrei chiamata Pecora Sono sempre più convinto Pecora è impazzita Devono essere gli steroidi Che gli danno la testa Secondo me Addirittura Ma Lo so che magari Ci sono arrivato un po' tardi Ma ogni volta Mi si risentano le monete Tanto vale Spenderle Allora cazzo La campana Ok Personal shopper Sì Ah è quello che ho fatto io adesso Ovvero che Per evitare di cadere Bisogna attaccarci al bordo Eh già Ecco Ecco Certo Eh Certo è che sì Ma che c'è in cura di te strana che non sia diventato blu o l'indicatore una fan ma chi sei tu allora oh ai 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 il ticca fresco pecora maledetta pecora poliziotto again pare del diavolo si ok 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 E ora guarda a me! Che vuoi dire? Si voleva casare. A donne come loro, le donne sono scopi. Si voleva una vita semplice. Si voleva una vita semplice. Una scopera nella mia compagnia. F***! Come sapeva il mio padre? Se è la persona che mi ha scoperto qui, allora perché viene il mio padre ogni mattina? C'è quello? Il mio grande. Una scopera. La mia compagnia viene dopo me. È solo mio padre, certo? C'è quello che fa? Guarda, ora mi faccio. Guarda, ora mi faccio. Deve andare a andare. La scopera è brutta. Può essere tecnica speciale. Dìmemele! Sì, sai questo? Alla me raccontare l'escollo. Mmm. Sì. 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 Se nessuno ha cambiato. È questo al passo? Le rendono più complexo opporte. Non so se posso mantenere la stessa. Non so se viés sembravo perchè dieci oppurebito. Sì. Sì. Tu sei famoso per essere un p***o, ho bisogno di continuare! La melodia del piano sembra un po' più melancholica che lo usualmente... E' quasi il tempo di giudicare il tuo vero valore! Il mio vero valore? Ho già risposto tantissime domande! Quale più vuoi da me? Questa è la terza domanda! Che faria se il tuo partner si parli quando eri assaustato? La domanda è un po' sciocca, secondo me Assolutamente! Liberissimo! C'è una possibilità che una nuova possibilità si tratta dentro te E' una che anche affronta tutti altri Un nuovo passaggio potrebbe essere preoccupante per qualcuno così indecisivo come tu Ma io ti warno, la strada che vuoi prendere non può essere aperta Dai, non rompere le balle! Andiamo avanti va! Spara sto razzo missile Cambiamo piano! E su teorie ci dovrebbe essere il secondo intervallo di questo livello Se te lo stessi chiedendo le altre persone hanno risposto così Beh Dai Era palese eh Uomini e donne Ah! Le uomini e le donne ci mandano via Sì cazzi No sto scherzando eh Sto scherzando Ok Yes sir C'è una sorta di boss qua, vediamo Oh porcaccia la pupazza E' fin qua! Ci sta eh! E' fin qua! Si si ho capito, capito ragazzi Così dai Go! State buono, state buono un attimo dai Aiuto! E' fin qua! Bene ragazzi eh! E' fin qua! U featured di specifiche Come la mettiamo qua, ragazzi? Ah beh, è vero Che sciocco Pausa Se non puoi trovare un modo avvicinato, lo preferiscono di evitare e provare una nuova strategia Ah Cosa cazzo sto facendo? Ah beh Porca vacca Cazzo 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 Qua io posso anche ritornare indietro di un bel po' di cose Ma in realtà Ho proprio scazzato tutto, sapete? Ma proprio tanto ho scazzato Eh, che culo Oh cazzo 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 Abbiamo fatto più fatica qua eh Qui abbiamo fatto più fatica Vediamo se sia qualche cazzo interessante In teoria sia Cazzo 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 Vincent Vicenta Sono molto contenta di che tu sei là Cazzo 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 � A Vi Мischere Vai La Cazzo La Cazzo 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 AccesitARE Cazzo La La Turma Cazzo Potremmo che potrei salvare loro se fosse meglio di giocare piano. Potremmo... Potremmo che non sto cercando abbastanza difficile. Ehi, non dico questo. Sto facendo fantastico. Ma io... Ci sono... Ci sono molti persone che potrebbero morire senza te. Tu devi credere in te stesso. Tu sei un personaggio ottimo, Vincent. Anche con tutto ciò che sta succedendo. Non ti preoccupare di altri. Non è niente. Solo... Non sto a morire in un posto come questo. Perché camminare qui, rende più difficile di salvare. Sì, sei vero. Non posso sicuro chiunque se sto qui sentendo triste. Allora, continuo a continuare con un sorriso. Brava Catherine. Con la Q. Bravissima. Beccaro con capelli lunghi. Grazie mille. Sì. 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 caprone dai caprone su di morale mi ha insegnato io dai percora con sciarpa lo sceglie come sa che se n'è andata non ne sarei così sicuro ma no ragazzi ho sbagliato volevo mettere quella sotto in realtà mi sono sbagliato ve lo giuro ero solo a pensare un attimo porca vacca non volevo farlo scendere colpa sì eh ai 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 e oh doveva no si si no Parla con Rin, ah. Ehi, addirittura... Grazie. Bene, ragazzi. E con questo noi chiudiamo la puntata. Grazie e alla prossima.